oroscopo di martedì 7 luglio ariete non avete da temere grazie alle vostre abilità ogni giorno più sottili sapete schivare le difficoltà con una invidiabile destrezza e indirizzarvi sulla strada migliore se vi imbattete in quella che sembra un'ottima opportunità per aumentare il prestigio personale beh non pensateci su troppo e agite con decisione toro avete progetti importanti che però non possono essere realizzati in un giorno serve organizzazione tenacia non sarà così facile se i sogni non corrispondono alla realtà la colpa è della sfortuna ma anche del vostro atteggiamento quindi autoanalisi e nuova convinzione gemelli in alcune situazioni delicate oggi saprete opporre la fermezza e l'equilibrio interiore per uscire al meglio favoriti i nuovi progetti dove occorre convinzione e determinazione potreste assaporare soddisfazioni mai provate prima di ora cancro non avete abbastanza pazienza con le persone invadenti specie con quelle che per scarsa sensibilità non rispettano il vostro bisogno di silenzio la vostra intimità è sacra e quando viene violata basta poco per farvi perdere tutta la serenità leone un potenziale di energie e idee si esaltano a dismisura oggi andate gli altri vi seguiranno non difettate di intelligenza creativa ma soprattutto avete una resistenza fuori dal comune al primo fallimento come al decimo voi insistete vergine non rifiutate un invito anche se il copione è già scritto e l'idea non vi alletta granché per il bene della famiglia è necessario un sacrificio tante chiacchiere che ritenete superflue ma se le guardate con indulgenza potreste anche divertervi bilancia vi siete incastrati con le vostre stesse mani in una marea di impegni ciò nonostante riuscite a muovervi con una discreta disinvoltura ai familiari che predicano prudenza rispondete un po' seccati sembrano inutili raccomandazioni ma a parti invertite fareste anche voi lo stesso scorpione l'impietudine va aumentando a vista d'occhio e la stanchezza la segue senza meno la vostra saggezza dovrebbe consigliarvi di aggirare certe situazioni dove potreste perdere la testa sagittario avete un magnetismo naturale che con queste condizioni astrali viene allargato e diventa evidente in amore non sempre le nuvole portano il temporale se agite in fretta porgendo le dovute scuse il vento allontana la perturbazione torna il sereno capricorno il tema delle finanze torna spesso a scalfire la serenità potreste approfittare della giornata di oggi per mettere a punto una strategia vincente iniziate con il limitare le spese superflue quelle non strettamente necessarie alla sopravvivenza acquario non ha alcun senso scaricare le tensioni su chi vi è vicino specie quando non ha colpe di sorta in amore le parole sussurrate all'orecchio avranno un effetto devastante di gran lunga superiore a quelle proclamate con forza e con prepotenza pesci riuscite a muovervi in un campo minato senza correre troppi rischi guidati per mano da un istinto infallibile che vi mette al riparo dai guai potresti anche iniziare a valutare un ampliamento dell'attività restare immobili equivale a soccombere per quelle giornate come oggi in cui non vi riposate un istante la cosa più adeguata sarebbe concludere con un pediluvio rigenerante